Nella regione dei parchi l'emergenza Cervi non può essere delegata a soluzioni cruenti e divisive come quella dell'abbattimento selettivo, approvato da una delibera di giunta dopo il parere favorevole dell'ISPRA. Ne è convinta anche il Lega Ambiente Abruzzo, che con la presidente Silvia Tauro spiega le ragioni di una scelta sbagliata e fortemente dibattuta. Pur riconoscendo il valore di garanzia del parere positivo dell'ISPRA, che è stato rilasciato quindi rispetto al piano di abbattimento della regione Abruzzo, quello che troviamo inaccettabile è che l'unica soluzione che si ritenga di mettere in campo rispetto a una necessaria gestione faunistica sia quella venatoria, tenendo conto quindi che questa soluzione, come riportato anche nel piano di gestione, non porterà effetti a breve termine, quindi non darà una risposta immediata a quelli che sono i danni denunciati dalle associazioni degli agricoltori o per la sicurezza stradale, mentre manca una volontà di programmazione di pianificazione a lungo termine, che garantisca proprio nell'Abruzzo regione dei parchi una vera coesistenza fra uomo e natura. Cosa si potrebbe fare per riportare un equilibrio di convivenza pacifica appunto tra l'uomo e la natura? Dobbiamo tenere conto di una molteplicità di fattori che in questo momento determinano quindi le dinamiche della gestione faunistica. Da un lato abbiamo elementi naturali come il cambiamento climatico, che però sappiamo essere determinato in maniera molto forte anche e soprattutto dall'azione dell'uomo. Dall'altro dobbiamo tenere conto anche proprio dei cambiamenti demografici, dei cambiamenti delle attività produttive che negli anni hanno determinato cambiamenti sul nostro territorio. Lo spopolamento delle aree interne, l'abbandono delle terre coltivate o dei prati o dei pascoli, sono tutta una serie di fattori che vanno considerati nel loro insieme per approntare delle soluzioni che possano anche trasformare quello che oggi consideriamo un problema in una risorsa. C'è inoltre il rischio di rompere l'equilibrio tra le specie, tra prede, predatori, cervi e lupi, creando ulteriori danni all'ecosistema. Noi in questo momento stiamo mettendo in campo una soluzione che su altri territori con numeri molti alti dei nostri si sono già rivelate inefficaci e che oggi stanno portando invece alla ricerca proprio di nuovi piani di azione che tengano anche dentro appunto la collaborazione con le associazioni di categoria, con le comunità, rendendosi conto appunto che la soluzione avvenatoria oltre a essere cruenta e divisiva quindi rispetto alla comunità in realtà si è rivelata inefficace essendo una soluzione che richiede anni per ristabilire in realtà un equilibrio corretto quindi all'interno dell'ambiente. Noi dobbiamo renderci conto che la gestione faunistica è appunto un elemento fondamentale del mantenimento dell'equilibrio ecologico ed ecosistemico del nostro territorio. Anche l'interazione tra le specie è un fattore fondamentale da tenere quindi in considerazione. Dobbiamo entrare nell'ottica che l'Abruzzo con il suo quasi 40 per cento di territorio in aree protette deve fare un ragionamento sempre organico tenendo insieme le dinamiche che avvengono all'interno delle aree protette con ciò che avviene al di fuori. Solo in questo modo potremo creare un modello che sia virtuoso e che sia anche un esempio per esperienze nazionali e anche internazionali.